trebimeteo.com consulta le previsioni sempre aggiornate su trebimeteo.com Previsioni del tempo per sabato 14 maggio. Un anticiclone molto mite proteggerà ancora le nostre regioni determinando tempo per lo più soleggiato. In Puglia cieli soleggiati con parziali velature da nord-ovest verso sud-est caratterizzeranno l'intera giornata seppur con temperature quasi estive. In basricata al mattino bel tempo con cieli sereni e leggere velature in transito che si intensificheranno nel corso del pomeriggio su gran parte del territorio lucano. Anche in Molise tutta la giornata sarà caratterizzata da tempo soleggiato con velature sparse che non origineranno fenomeni di alcun genere. Grazie a tutti.